Benvenuto nel nostro straordinario canale. Prima di immergerti nel video epico che sta per sconvolgere i tuoi sensi, ti esaltiamo a conchiere un gesto di assoluta grandezza. Iscriviti ora per garantirti l'accesso esclusivo a questa esperienza mozzafiato. Ma non è tutto. Schiaccia il tasto del like con una forza titanica e attiva la campanella dell'entusiasmo per non farti sfuggire neanche un frammento delle prossime, travolgenti rivelazioni. Adesso fatevi trasportare nell'universo di Andrea Laurenti, il misterioso erede di una leggenda vivente. Un nome che risuona nell'aria come un eco travolgente, Luca Laurenti. Il re indiscusso del piccolo schermo italiano, affiancato dal suo fedele compagno di avventure, Paolo Bonolis. Ma dietro le luci abbaglianti dei riflettori si cela un enigma ancora più avvincente. Andrea, il figlio di questa celebrità titanica, affronta un destino tanto ardito quanto avvolto nell'oscurità. Immaginate, se osate, il peso di essere il discendente di un'icona assoluta. Andrea Laurenti, il frutto dell'unione tra Luca Laurenti e la donna che l'ha catturato al volo, Raffaella. Ma qui il plot si intreccia, mentre la fiaba d'amore di Luca e Raffaella è stata raccontata e riscritta, con tutti i suoi alti e bassi. La vita di Andrea è rimasta avvolta da un velo di segretezza. Il giovane è cresciuto nel mistero, appartato dall'ardente fuoco dei riflettori che hanno accarezzato ogni centimetro della celebrità di suo padre. Una scelta audace, ma necessaria, dato l'immensurabile bagaglio di fama che il suo genitore si trascina. Un'ombra che avrebbe potuto oscurare qualsiasi speranza di vita normale. Eppure, Andrea è riuscito a creare la sua fortezza di riservatezza, un'involnerabile barriera contro il turbine mediatico. Le scarne informazioni che circolano ci dicono che Andrea abita nella metropoli pulsante di Milano, in compagnia della madre, mentre il padre, pur tra gli impegni travolgenti, fa il possibile per tessere fili di connessione con loro. I figli delle stelle spesso subiscono la furia implacabile dell'attenzione ossessiva, ma non Andrea. Questo giovane eroe ha scelto la via meno battuta, respingendo le catene del destino preordinato e scavando con le unghie nella terra fertile del suo cammino unico. Sì, i capelli mossi e l'entusiasmo contagioso gli sono stati donati dal padre, ma qui finisce l'identikit. Mentre Luca continua a risplendere nei cuori di milioni di italiani, suo figlio Andrea si erge come un enigma avvolto in una nebbia di fascino. Un giovane che, malgrado le tentazioni della gloria ereditata, ha scelto di danzare al di fuori del cerchio infuocato del pubblico. Un'anima in cerca di serenità, che sfugge alle urla del mondo per trovare la sua armonia nell'ombra. Dunque, lasciatevi stregare da questa storia, e non siate timidi nell'aggiungere il vostro granello di saggezza nella sezione commenti. Seguiteci con occhi sgranati, perché il prossimo capitolo di questo incredibile racconto non tarderà a stupirvi. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio, e vi promettiamo emozioni ancora più sorprendenti nel prossimo, avvincente capitolo. Alla prossima, con un nuovo e irresistibile video!